A meno credo che per capire se una persona aumenta guardare gli occhi, gli occhi come si dice sono lo spicchio dell'anima. Mi sono detto wow, abbiamo cercato di rifletterci l'un l'altro nel quello che per noi l'amore significava. In ogni caso era riuscita a capire che c'era qualcosa che non andava. I might lose my mind, are you okay? Are you okay? Are you okay? Am I okay? All the day, all the night, all the day All the day, all the night, all the day Non, 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 non... Una magia è facilmente capibile direttamente da un τον sguardo. gli occhi dicono tutto, dicono veramente tutto.